Buonasera a tutti ragazzi, oggi ci troviamo alla piersa di San Nicolò a Sacina di Lanciano. Abbiamo cominciato le tre campane per una piccola chiamata che la corda ti ha dato a mano per il trattamento e adesso ascolto il trattamento per il 19 punto. Qui frantano fannoci vedere, questo è il campanone, questa è la mezzana, l'altra è la mezzana e l'altra è la piccola chiamata che la corda ti ha dato a mano per il trattamento. E adesso ascolteremo il battere sul campanone e poi voglio dire la carmaria. E quindi a presto la nuova del campanone, te lo ascolto a tutti, ciao! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!